Sindaco, partirà a breve il monitoraggio delle aree elettromagnetiche nel comune di Castellavate proprio per la tutela dei cittadini. Sì, l'aspetto ambientale è a tutto tondo, insomma l'aspetto ambientale va visto sotto ogni angolatura, la raccolta differenziata di cui stiamo parlando oggi, la pulizia delle spiagge, la qualità delle acque e la qualità dell'aria. Quindi il monitoraggio dei campi elettromagnetici è un altro tassello importante che si aggiunge a questo scenario complessivo di tutela ambientale. Quindi la tutela ambientale non è solo la raccolta differenziata ma è la qualità della vita in genere, quindi la qualità della vita non può prescindere da queste attività. E quindi noi l'abbiamo fatta, la renderemo pubblica, l'abbiamo sul sito ufficiale del comune e quindi daremo ai cittadini le informazioni necessarie che ci consentiranno di monitorare diversi punti, diversi siti del comune per avere sotto controllo anche questo fattore. Grazie.